L'imperativo è cancellare la pessima prestazione di Messina e tornare al successo che in casa manca dallo scorso 5 febbraio, 5-0 sul Potenza con Colombo in panchina. Zeeman conferma il tridente di mercoledì scorso, Mero, Rascano, Colai, la grande novità, Crayal, centro al rientro dall'infortunio, Mezzala nel centrocampo completato da Palmiero e Raffià. Turno di riposo per Mora, si comincia così con la Turris che si schiera col 3-4-3 ma dopo pochi minuti Leonetti causa infortunio, è costretto ad abbandonare il proscenio, entra Audi e dunque 3-5-2 l'italo marocchino in prestito dal Frosinone, una Mezzala di qualità. Qui si gira molto bene L'Escano, il tiro però è centrale, sul problema per il portiere Fassolino, classe 2000 della Turris, comincia a ingranare il Pescara dopo lo spunto di Palmiero, un fallo, norma del vantaggio. L'Escano prende la mira di un soffio al lato rispetto al palo destro della porta difesa da Fassolino, comincia a muoversi molto bene la catena di sinistra. Craia per Milani c'è il tentativo di Merola che anticipa tutti ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta, però bello il movimento del numero 30. Creccezzi dopo una grande azione, Colai ignora la sovrapposizione di Craia che si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere Fassolino. Il suo destro, il destro del numero 7, viene respinto dal numero 26, Miceli. Attenzione però la Turris, l'unica conclusione del primo tempo degna di questo nome, grande parata dobbiamo dire di Plizzari. Il sinistro di Franco, il regista, maglia numero 44, classe anche 94 della Turris. Quindi Merola che si divora, una gigantesca occasione su assist di Colai al minuto 35. Poi quarantunesimo, ancora Colai alza la testa, il colpo di testa in tuffo, qui fa il massimo Merola, respinge a pugni chiusi. L'estremo difensore della Turris Fassolino. Poi ancora Colai sulla sinistra, la sovrapposizione di Milani. E poi il tentativo di Lescano che anticipa Miceli ma non riesce a trovare la porta. Quarantasesimo, siamo nel secondo tempo, il colpo di testa di Magnero che anticipa Brosco. Sono stati i compagni in squadra nella cavalcata triunfale 2011-2012, Turris a centimetri dall'avvantaggio. Poi cinquantaduesimo, laggiù in area Colai c'è stato un contatto, ho preso un totale, in realtà insomma secondo noi non c'è nulla, con Boccia, maglia numero 6 di proprietà del Cagliari, ex Olbia l'arbitro, lascia proseguire. Guardate il numero di Raffià, minuto 54, fa fuori tre avversari, poi palla in mezzo, Merola non può sbagliare. Siamo al minuto 54 per la precisione, nel corso di questa partita il Pescara sblocca il punteggio, dunque raccoglie quanto seminato nel primo tempo, lo fa con Merola che aveva avuto tre occasioni nella prima frazione di gioco. Merola, quarto sigillo in questo campionato, ma grandissima azione, di grandissima qualità da parte di Raffià. Rimiriamo ancora, tre uomini su di lui saltati, una grande finta, poi un'occhiata in mezzo, c'è il movimento di Merola in posizione regolare, anticipa il suo dirimpettaio Boccia, e dunque di prima intenzione infila il portiere Fasolino, cinquantaquattresimo, Pescara in avvantaggio, 1-0 sulla Turris, Pescara che continua ad attaccare qui, bravo Brosco su Maniero, poi lancio illuminante di Palmiero, Brosco su Maniero, poi Palmiero, lancio illuminante per Colai, destro chirurgico, 2-0 al minuto 60, questo è il secondo gol in campionato per Aristidi, Colai classe 1999, il primo gol, insomma era passato già un po' di tempo, in campionato non segnava dal 6 novembre, 2-1 sulla Gelbison, il gol del 2-0, poi c'è stato nel finale il 2-1 di Chiere Mateng, vittoria della Pescara per 2-1, qui bravo Colai che prende la mira, si accentra, coglie e colpisce, o meglio, centra l'angolino basso alla sinistra del portiere Fasolino, qui una buona opportunità, una grande opportunità per Lescano, manca cattiveria a Lescano in questa circostanza, è stato assistito magistralmente dal suo compagno di squadra a Lescano, il portiere è stato bravo a deviare e rispingere l'insidia, poi Crescenzi dentro, ancora per Raffià, tutto facile per Bergani che aveva preso il posto di Lescano, questo è il sesto gol in campionato, minuto 77, sesto gol per il classe 2001, siamo al 77, Pescara 3, Turris 0, Pescara che può dilagare, ha creato tantissimo in questa partita, un'altra azione zemaniana con Crescenzi che è stato tra i migliori in campo, palla dentro per Raffià che non deve neanche guardare in mezzo, perché sa che lì c'è Bergani, Bergani a porta vuota, gonfia la rete della porta della Turris e poi al 78esimo l'ex Frascatore sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da destra va a colpire di testa imparabilmente per la portiere Plizzari, non esulta Frascatore lo scorso anno, meglio, tra lo scorso anno e nel 2013-2014 quando arrivò giovanissimo 33 presenze e 2 gol con la maglia del Pescara. Colpo di testa di Frascatore, 78esimo, girandola di sostituzione, nel frattempo Fontana al 3-5-2 era passato al 4-3-3, molto offensivo, l'ingresso in campo di Longo, bravo Plizzari, proprio Longo che va a chiamare all'intervento non facile, stavo difensore Biancazzurro che si è fatto trovare sempre pronto nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa, poi Mora è entrato in corso d'opera e dribbling in area nello stretto e parata di Fasolino che evita il 4-1 e poi il tentativo di Giannone, entrato anche lì nei minuti finali della partita. Ci prova ancora Longo su cross da sinistra, non trova la porta, tutto questo al 92esimo, siamo ora al 95esimo, all'ultimo minuto di recupero con quest'altra azione di Raffià, la palla viene respinta da un difensore della Turris e finisce proprio qui la partita, dopo 5 minuti di recupero, Pescara batte Turris, 3-1, Pescara dà spettacolo, torna a flertare con la vittoria all'Adriatico Giovanni Cornacchia che mancava nello scorso 5 febbraio, 5-0 sul Potenza.